La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, iniziamo con la nostra rassegna stampa. Partiamo dal mattino in apertura, Draghi, il giorno del giudizio, il Premier. Oggi al Senato, resta l'incognita Movimento 5 Stelle, ma cresce l'ala governista, vertice con Letta, poi con i leader del centrodestra, pressing delle agenzie di rating. Andiamo sul centro pagina, quei rifiuti per l'eternità nella terra dei fuochi, l'appello dei sindaci ai PM tra Napoli e Caserta. Questa qui la fotonews sul centro pagina. Rimaniamo sul centro pagina con l'emergenza criminalità. Pistola alla nuca per rapina, turisti terrorizzati a Napoli. Il raid in centro, restituito l'orologio perché di poco valore. Prima li hanno pedinati, poi quando si sono seduti al tavolino di un bar in piazza Trieste Trento, sono entrati in azione puntando una pistola alla testa di uno dei due turisti per portargli via l'orologio. È accaduto nel cuore del salotto di Napoli, a un passo da piazza del Plebiscito. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Sette minuti dopo l'agguato, gli occhi elettronici hanno anche immortalato un altro ragazzo che è ritornato dai due turisti svizzeri per riconsegnare. L'orologio era di poco valore. Ancora cronaca, terracina, sindaca, gli arresti, corruzione per le spiagge. Questa era la prima pagina del mattino. Andiamo a vedere in primo piano il giorno della verità. Draghi le trattative con i partiti, le richieste del Premier. Letta che dice finirà bene. Gli orari sono scanditi con precisione, eppure nessuno sa davvero quanto durerà e come finirà. quella che rischia davvero di essere, al di là della retorica, la giornata più lunga di questo governo. Alle 9.30, Mario Draghi è atteso in Senato per svolgere quelle comunicazioni che per volontà di Sergio Mattarella consentono di sottoporre alla discussione del Parlamento la crisi aperta dalle sue dimissioni da Presidente del Consiglio. Il giorno dopo toccherà alla Camera. Il timing prevede che dopo la discussione ci sia la replica e poi l'eventuale voto di fiducia oggi a partire dalle 18.30 e domani a Montecitorio dalle 11.30. Già perché se ci sarà un meno dipenderà da ciò che il Premier dirà a Palazzo Madama. Se i tentativi di eliminare i veti reciproci dovessero fallire, c'è sempre la possibilità che si presenti alle Camere con dimissioni irrevocabili senza attendere il voto. Andiamo avanti. Il Movimento 5 Stelle all'interno del Movimento crescono i governisti. Votiamo tutti la fiducia, altrimenti sarà scissione. I numeri definitivi della scissione attesa nei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle chiamati a votare la fiducia al governo Draghi si conosceranno solo alla fine del discorso che terrà al Senato il Presidente del Consiglio. Ma il lavorio prosegue sotto traccia per salvare l'unità del Movimento e il destino dell'esecutivo. Dopo gli ultimi giorni di fibrillazioni quasi deliranti, la linea che sta emergendo per le prossime ore nel partito di Grillo tra i governisti sia tra i duri e puri è quella di evitare fughe in avanti fino a quando non sarà chiaro quanti e quali quei famosi nove punti chiesti da Conte all'ex Presidente della Banca Centrale Europea entreranno fra le cose da portare a termine entro la fine della legislatura. Non si tratta di una bandiera bianca innalzata dall'ala più governista del Movimento ma al contrario di un modo per alzare la pressione su Conte che così non saprà neppure fino all'ultimo su quanti uomini potrà concretamente contare per tentare di defenestrare Draghi. E andiamo a vedere nel centro-destra che cosa sta succedendo invece Lega e Forza Italia per la stabilità. Zaia convince Salvini Il governatore ferma Matteo Niente paletti a Draghi O finiamo con il Quirinale Berlusconi media e chiama Meloni Resta ancora aperta l'opzione di andare alle urne Un primo contatto domenica, poi lunedì una lunga e cordiale telefonata Berlusconi prima di apparecchiare ieri la tavola a Villa Grande al centro-destra di governo Pranzo a base di insalata, pesce spada e gelato Ha sentito il Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni Un colloquio che è un segnale di come il leader azzurro pensi a due opzioni per la soluzione della crisi La prima è la continuazione con Draghi senza Conte La seconda, qualora non dovesse essere possibile andare avanti, il voto anticipato La situazione economica e internazionale dovrebbe scongiurare il voto adesso Ma se non c'è un'agenda di centro-destra noi punteremo alle urne Questo è il ragionamento del Cavaliere Rimaniamo ancora sul mattino e andiamo a vedere il piano di ripresa Senza le riforme del PNRR, niente scudo antispread La BCE detta le condizioni Il nuovo strumento potrà essere utilizzato solo se tutti gli impegni verranno rispettati Percorso obbligato per i paesi indebitati come l'Italia Verso il rialzo dei tassi di 0,5% Riforme e disciplina di bilancio in cambio dello scudo antispread Alla fine i falchi potrebbero prevalere su tutta la linea Non solo la stretta monetaria che la BCE si appresta a decidere domani La prima in oltre un decennio potrebbe essere maggiore delle attese Che finora davano per probabile un aumento moderato di appena 25 punti base E raddoppierà 50 Ma pure lo scudo antispread, la misura anticipata dall'Eurotower un mese fa Come strumento per tenere a bada la corsa dei differenziali nei rendimenti dei titoli di Stato Potrebbe porterebbe con sé rigidi paletti e condizionalità per i paesi beneficiari Legati in particolare agli obiettivi del recovery plan Rimaniamo su questa pagina Mosca riapre il Nord Stream in caduta il prezzo del gas Quello di domani doveva essere un altro giorno della verità Nella lunga guerra del gas che vede contrapposti la Russia e i paesi europei Se il gasdotto Nord Stream 1 in manutenzione dallo scorso 11 luglio Non tornasse ad essere operativo Allora sarebbero fondati i timori di un'accelerazione da parte del Cremlino E dunque su un blocco potenzialmente quasi totale delle forniture Le notizie arrivate nella giornata di ieri sono invece moderatamente positive E hanno avuto un effetto immediato sui prezzi del gas Che dopo il nuovo scatto nei giorni scorsi hanno invertito la rotta Scendendo ad Amsterdam sotto i 160 euro Andiamo a vedere Vertice su petrolio e Siria Putin vola a Teheran L'Iran che dice Armi ai paesi amici Intesa da 40 miliardi Kamenei guerra evento duro Ma la Nato andava fermata all'incontro a tre Erdogan dice che vuole attaccare le due città kurde Stallo sul grano E patto di ferro tra Russia e Iran contro l'Occidente e gli americani Una sfida a tutto campo che spazia dal settore militare e geostrategico A quello economico ed energetico Con il corollario molto concreto Dell'accordo per un investimento nelle aziende energetiche Russe da 40 miliardi di dollari nel comparto petrolifero iraniano Il più importante investimento straniero nella storia dell'Iran moderno Gazprom investe da protagonista Con questo lasciamo il mattino Ci spostiamo su cronache In apertura il sindaco dice sì E un nostro simbolo sarà riaccesa Si parla della croce di San Liberatore Dopo la disponibilità dei primi cittadini di vetri sul mare Cava dei Tirreni Arriva la disponibilità di Napoli Resta la necessità Dice di trovare una strategia comune per la messa in sicurezza dell'installazione luminosa Sotto la testata dopo dieci mesi Revocati i domiciliari Annino Savastano e Vittorio Zoccola Il loro comportamento è stato leale e corretto Resiste solo l'obbligo della dimora in Campania È stata accolta la richiesta degli avvocati difensori Ruggi Disorganizzazione e caos al pronto soccorso Donna incinta sulla barella del 118 Andiamo sul centro pagina Sindaci pro Draghi C'è solo il primo cittadino di Corbara Piero De Luca il PD al fianco del premio Era oggi il giorno della responsabilità Di taglio basso A Giffoni 6 Casali Vitolo denuncia Dopo l'abbandono della minoranza Il Consiglio Comunale va avanti Ad Agropoli sono state assegnate le deleghe A Crispino, Russo e Pesca E poi l'equitazione in lutto Per la morte di Damiano Lamonica Lo sport salernitana Per l'attacco spunta L'ipotesi del pistolero Piatek E termina qui la prima parte Della nostra rassegna stampa Ci fermiamo per un po' di pubblicità Rieccoci di nuovo in studio Riprendiamo la rassegna stampa Con il mattino di Salerno In apertura sulla prima pagina Differenziata Disaggi e polemiche Parte la rivoluzione Tra furbetti e distratti Ma Salerno pulita Debutto ok Criticità limitate Sversamenti errati E microdiscariche Molte strade I commercianti Così non va Modello da rivedere Di lato la polemica A Scea Il resort della Cure È già pronto Per i primi clienti Centropagina De Santi Spiomba In ritiro Piatek L'idea Per l'attacco Sambia e Valencia Tutto per I Granata Rimaniamo su centropagina Con il dossier Salerno Sempre meno Giovane È il tracollo Degli occupabili Lo dice l'Istat Tra otto anni Spariranno Settantamila persone In età Da lavoro La CGL Così la denatalità Erode La componente Attiva Poi la scuola Pochi prof di ruolo E turnover Zoppo Favorito Il nord Assumete I precari Di lato La bufera Giudiziaria Savastano Zoccola Tornano in libertà Il giudice Dispone L'obbligo Di dimora Le politiche Sociali Immense Il comune Vuole rimodulare Le fasce tariffarie No A sperequazioni Questa Era la prima pagina E andiamo a vedere Nel Cilento Il resort Di lusso Della Curia È pronto Per i primi Clienti Il resort E pronto Ad ospitare I primi clienti Le prenotazioni A Villa Sacro Cuore Di Velia Sarebbero Già tante Ma ancora Non è stata Ufficializzata La data Dell'inaugurazione Il clamore Mediatico Con l'intervento Di ambientalisti E parlamentari Potrebbe far Slittare Di qualche giorno L'avvio Delle attività A rompere Il silenzio E il primo Cittadino Di Ascea Pietro D'Angiolillo Credo Dice Che bisogna Fare una riflessione Seria E mettere da parte L'ipocrisia E gli estremismi Di chi In merito All'intervento Di recupero Ambientale Paesaggistico Della Villa Sacro Cuore Coltiva Protagonismi Inutili E privi Di buonsenso La tematica La tematica Va approfondita Tenendo conto Che la struttura È stata realizzata In virtù Di legittimi Titoli Edilizi Abilitativi Rimaniamo Nel Cilento Sempre ad Ascea Targhe alterne Difugio selvaggio Partono denunce E multe A deboli Anziani E centauri Scatenati Giro di vite Dei vigili L'amministrazione Conte Spinge Sull'acceleratore Del decoro Pubblico La movida E stretta Dalla morsa Dei controlli Troppe Le lamentele E le denunce Di residenti E commercianti Che assistono Allo spettacolo Di adolescenti Spesso ubriachi Creare scompiglio Sotto i balconi Dei palazzi Anche Fino Alle Quattro Del mattino Ma Quello che è accaduto Ieri È davvero singolare Il neocomandante Della polizia Municipale È stato costretto A convocare Un gruppo Di anziani Fracassoni Che frequentano Un centro Per la terza età Nel quartiere Santo Spirito La struttura Del comune Ed è stata concessa Loro per attività Recreative Dai numerosi Esposti fatti Dai residenti Sembrerebbe Che il centro Sia trasformato In una balera In cui la mazzurca È la colonna sonora Delle loro giornate E rimaniamo ancora Su questa pagina A battipaglia Il questore In arrivo Dieci nuovi agenti Intanto si indaga Ancora sul rogo Doloso Nella pizzeria A San Rufo Inauguriamo Il museo Dello sport Arriva l'annuncio Il centro sportivo Medidionale Da tempo Vive a singhiozzi Le sue attività sportive Se la piscina Ha un ottimo riscontro Non si può dire lo stesso Per i campi da tennis Dopo gli aumenti Delle quote Orarie Il palazzetto Per gli sport Indore Chiuso da anni In attesa Della fine Dei lavori Il campo Da calcio Con pista Di atletica esterna È inutilizzato Da due anni Ci sarebbe anche Un museo Dello sport Nella struttura Gestita Dal consorzio Di bacino Mai aperto Tuttavia Una recente visita Di Sergio Roncelli Presidente Del CONI regionale Accompagnato Dal consigliere Regionale Corrado Matera Lascia ben Sperare Che possa essere Inaugurato A breve Appunto Il museo Dello sport A Ponte Cagnano Aggrediti Dal Rottweiler Uno dei due Ha ferite gravi Paura e sgomento A via Picentino A pochi passi Dal centro Dove ieri pomeriggio Un Rottweiler Di proprietà Di un residente Della zona Ha aggredito Due fratelli Di 11 e 13 anni Il cane Secondo quanto Riportato Dai testimoni Avrebbe Oltrepassato Il recinto In cui si trovava Lasciandosi Lanciandosi Sui due ragazzi Che hanno provato A fuggire Senza riuscirci Lasciamo con questo Il mattino Ci spostiamo Su cronache In primo piano Si parla Di sanità Ruggi Caos E disorganizzazione Al pronto soccorso Scene di Ordinaria follia Al pronto soccorso Dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona Alla carenza Di personale Che ormai da tempo Sta mettendo a dura prova I presidi ospedalieri Si aggiunge L'incapacità organizzativa Di chi gestisce Le emergenze Due giorni Di caos Al Ruggi E la mancanza Di percorsi Per pazienti Covid Non inizia A pesare Anche tra Inizia a pesare Anche tra Gli stessi Dipendenti Nella giornata Di lunedì Nel primo pomeriggio E giunta In ambulanza Una donna Positiva al Covid Incinta Di due gemelli Per con minacce Di aborto Quando l'operatore Sanitario Si è avvicinato Al triage Il caos Dalla base operativa Del pronto soccorso Provano a mettersi In contatto Con il reparto Il medico di turno Ha chiesto Agli operatori Di far attendere La paziente A bordo Del mezzo di soccorso Sarebbe poi Giunto lui Con l'ecografo Per i controlli Del caso E così è stato Ma la donna È stata costretta Ad attendere In ambulanza E di conseguenza Il mezzo Del 118 Impossibilitato A lasciare Il ruggi Per far ritorno In ospedale Andiamo avanti Comportamenti Leali Nino Savastano E Vittorio Zoccola Tornano In libertà Sono tornati In libertà Sono coinvolti Nel procedimento Penale Ribattezzato Sistema Salerno Per far luce Sui presunti Appalti Truccati Che l'amministrazione Negli anni Ha concesso Alle cooperative Sociali Con proroghe Varie Il presidente Della seconda Sezione Del tribunale Di Salerno Lucia Casale Ha accolto Parzialmente Le istanze Difensive Ha sostituito La misura Cautelare Degli arresti Domiciliari Con la misura Meno gravosa Dell'obbligo Di dimora In Campania Cambiamo argomento Appello A Draghi Il sindaco Di Corbara Resta l'unico Firmatario Il sindaco Il primo cittadino Pietro Pentangelo Tra i firmatari Dell'appello Rivolto al presidente Del consiglio Mario Draghi Perché non lasci Il governo È al momento L'unico sindaco Dell'agro Nocerino Sarnese A sottoscrivere Formalmente L'appello Lanciato Da circa Mille sindaci Italiani Ho sottoscritto L'appello Perché non possiamo Permetterci Dice Una crisi Che determinerebbe Immobilismo E ulteriori E più gravi Conseguenze Andiamo a Battipaglia Questione Sicurezza Il questore Assicura Dieci agenti In più In città La questione Sicurezza Battipaglia È sempre più calda Da diversi mesi Tra incendi di auto Aggressioni Anche a minori E il più recente Atto intimidatorio Nei confronti Di una pizzeria In via Ripa Per la quale Si segue La pista del Dolo Il nuovo Questore di Salerno Giancarlo Conticchio Accompagnato dal Neo Vicequestore aggiunto Della Polizia Di Stato Di Battipaglia Giuseppe Fedele Hanno incontrato La sindaca Cecilia Francese Per lo scambio Di saluti Istituzionali E per fare Il punto Sulla situazione Generale Il questore Ha ribadito Ciò che aveva già detto In occasione Di un vertice In prefettura Con massima attenzione Al territorio Di Battipaglia E dell'intera Piana del Sele Misura importante Per il territorio È quella Dell'aumento Di personale Presso il commissariato Locale Della Polizia Di Stato Presso il quale Sono stati Trasferiti Dieci agenti Che andranno A rimpinguare Il personale Già operante E termina qui La nostra Rassegna stampa Grazie per averci seguiti Per essere stati con noi Vi auguro buona giornata